Siamo con Chiara Cenamo, 20 anni di Matinella, frazione di Albanella in provincia di Salerno e rappresenterà proprio la provincia di Salerno, il Cilento a Iesolo, alle pre-finali di Miss Italia con la fascia di Miss Miluna Basilicata. Una salernitana, una ragazza della provincia di Salerno che però è riuscita a raggiungere un grande traguardo in Basilicata. Perché? Com'è andata? Beh, mi trovavo da quelle parti in quanto andavo in vacanza a Maratea e ho visto uno spot di Miss Italia che si faceva proprio in Basilicata e infatti ho partecipato alla prima selezione a Molo Lucano dove ho vinto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza la quale mi ha consentito poi di poter partecipare alle regionali che ho vinto di nuovo con la fascia di Miss Miluna Basilicata e la quale mi consentirà di poter arrivare finalmente a Iesolo alle finali pre-nazionali. 1,80 di altezza, veramente una ragazza con un fisico slanciato e statuario, una ragazza molto determinata e tra l'altro hai una passione incredibile che secondo me va sicuramente rimarcata hai lobby di visitare tutti i santuari, pare che li conosci tutti. Sì, perché io in realtà sono molto religiosa, credo molto in Dio, credo molto nei Santi e infatti sono una delle prime a partecipare ai pellegrinaggi e questo realmente è raro perché trovo pochissima gente, pochissime ragazze come me che lo fanno. Qual è il santuario che ti ha colpito di più? Io vado due volte all'anno a Petrercina, io sono molto credente a Padre Pio. Senti, poi c'è un'altra passione che ti contraddistingue riguardo il calcio, sei una grandissima tifosa della Serenitana e ti auguri naturalmente come tanti altri tifosi che presto questa squadra ritorni in Serie A. Sì, è vero, sono una grandissima tifosa della Serenitana anche perché sono una Serenitana e quindi la tifo ogni volta. Senti, allora tu andrai a questo grande appuntamento che riguarda la bellezza, che cosa porterai con te, della tua terra, di queste zone, che cosa porterai con te, quale sarà la cosa più bella che vorrai dimostrare lì? Ma sicuramente vorrò dimostrare tutto, diciamo la solarità di questo posto, a differenza quindi del nord, il quale è molto più freddo e inoltre porterò tanta speranza. Senti, e tu ti augureresti di avere il numero 20, perché il numero 20? Perché in tutti i concorsi di bellezza che ho fatto ho sempre il numero 20 e con il numero 20 ho sempre vinto. Ecco, diciamo la verità, hai tutte le carte in regola per giocarti questa grandissima manifestazione, per raggiungere un grande traguardo. In bocca al lupo allora e speriamo di vederti raggiungere grandi traguardi. Ma grazie.